«Scusa, mi è venuto in mente che Sebastiano ha detto che Liliana doveva venire da te venerdì, quindi sapeva, ne aveva parlato del vostro weekend». Queste rivelazioni sorprendenti sono contenute in un messaggio datato 29 dicembre 2021. È stata Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovic, a scriverlo. Liliana, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021, è stata ritrovata, senza vita, in un piccolo bosco alla periferia della città il 5 gennaio 2022. La sua tragica fine è ancora avvolta dal più fitto mistero, con l'inchiesta ancora in corso e nuovi dettagli scioccanti che emergono di continuo. Il messaggio è stato inviato tramite WhatsApp a Claudio Sterpin, l'amante della cugina. Il suo contenuto è chiaro e inequivocabile, facendo riferimento a un weekend che Liliana e Claudio avrebbero dovuto trascorrere insieme, programmato per il fine settimana successivo alla scomparsa della donna. La particolarità è che è stato Sebastiano Vicentin, il marito di Liliana, a riferire il tutto a Radin. Questo fatto implica che Vicentin fosse a conoscenza della relazione tra la moglie e Sterpin. Il messaggio di cui parliamo è estremamente significativo, poiché conferma ancora una volta le molteplici contraddizioni di Vicentin in questa tragica vicenda. Fin dall'inizio delle indagini ha costantemente affermato sia agli investigatori che in televisione che tutto andava bene tra lui e la moglie. Ha persino descritto la loro relazione come idilliaca. In risposta a specifiche domande riguardanti la relazione extraconiugale della moglie emersa durante le indagini, ha categoricamente negato che Liliana potesse tradirlo. Ha anche sminuito la conoscenza di Sterpin, definendolo bugiardo e millantatore per aver inventato una relazione inesistente. D'altro canto, Sterpin ha dimostrato con prove concrete che tra lui e Liliana c'era effettivamente un legame molto intimo e, come Claudio ha recentemente confermato, c'era la volontà di condividere un percorso di vita insieme. I due avevano già fatto dei progetti. Già il weekend successivo alla scomparsa di Lilli avrebbero dovuto fare un piccolo viaggio insieme e a breve la pensionata si sarebbe trasferita a casa sua. Lei aveva persino già comprato un paio di lenzuola, un piccolo ma significativo gesto per cominciare a personalizzare l'appartamento che avrebbe presto condiviso con l'amante. Proprio perché il progetto di andare a convivere si sarebbe concretizzato a breve, Claudio è convinto che Liliana ne avesse già parlato a Sebastiano. Anche il fratello di Lilli, Sergio Resinovic, la pensa allo stesso modo. Anche per lui il marito sapeva tutto. Come siano realmente andate le cose non è chiaro, ma è ormai assodato che sin dal momento della scomparsa della moglie, Sebastiano ha avuto un atteggiamento strano se non sospetto. È stato solo ingenuo o nasconde qualcosa? Non è nemmeno chiaro cosa abbia fatto quella tragica mattina di metà dicembre. Ecco come lui stesso ha ricostruito quei momenti. Sebastiano è uscito di casa intorno alle 7 e 40 per ritirare e consegnare i coltelli che affilava, dato che l'uomo fa il mestiere di arrutino per far quadrare i conti. Poco prima delle 10 si è chiuso nel suo laboratorio, una modesta stanzetta nel centro di Trieste. Vi è rimasto fino a mezzogiorno. Ma nessuno può confermarlo, poiché in quelle due ore il suo telefono non ha dato segni di vita, era spento o irraggiungibile. I consulenti di Sergio Resinovich hanno scoperto che prima di allora non era mai accaduto che il cellulare di Vicentin restasse inattivo per così tanto tempo. È stata solo una coincidenza? Inoltre, un'analisi dei dati relativi alla mattina del 14 dicembre non ha mostrato consumi di energia elettrica nel laboratorio, il che è molto sospetto. Sebastiano ha affermato di non essersi mosso da lì fino all'ora di pranzo. Ma come abbiamo riportato, alle 11 qualcuno è entrato nel suo appartamento in via Verrocchio e ha maneggiato il telefono di Liliana, che lei aveva lasciato a casa. Chi può essere stato, considerando che non sono stati trovati segni di effrazione sulla porta d'ingresso. Chi ha preso in mano il cellulare ha rifiutato una chiamata da Sterpin che, preoccupato dal silenzio di Liliana, la cercava con insistenza perché non si era presentata all'appuntamento concordato. Sterpin ha continuato a chiamarla per tutto il giorno, anche nel pomeriggio e alla sera. Alla fine Vicentin ha bloccato il suo numero. Un gesto anomalo che l'uomo ha poi giustificato così. Nel pomeriggio ho risposto a quel numero e ho sentito qualcuno ansimare, ho pensato a un maniaco. I consulenti dei Resinovic hanno richiesto la verifica dei consumi elettrici relativi all'appartamento di Liliana e del marito, al fine di stabilire se qualcuno vi si sia intrattenuto a lungo la mattina del 14 dicembre. È da notare che Sebastiano ha affermato di aver trovato la luce del corridoio accesa. Riguardo a Silvia Radin, agli inquirenti la donna ha riferito che il 17 dicembre, cioè tre giorni dopo la scomparsa della cugina, Sebastiano le confidò che forse Liliana era andata via con qualcuno in auto. Ma con chi? Perché ha parlato di un'auto. Si pone inoltre la questione economica. Vicentin ha affermato di aver trovato 2000 euro in contanti in casa. Secondo Sterpin, erano destinati proprio al marito, affinché non rimanesse senza soldi una volta che Liliana fosse andata via. Sebastiano percepisce una pensione di 500 euro al mese e da solo avrebbe fatto fatica ad andare avanti. Anche per questo motivo, secondo il fratello e l'amante, Liliana consultava annunci immobiliari online. Stava cercando un piccolo appartamento in affitto per il marito. Tra le sue ricerche c'erano anche consigli su come gestire una separazione senza l'ausilio di avvocati. Come ha spiegato Sebastiano queste ricerche? Le ha giustificate affermando che la moglie le faceva per conto di un'amica, senza però rivelare il nome. Infine è emerso che Sebastiano era a conoscenza di un'interruzione di gravidanza di Liliana nel 1993, di cui fu lui ad accompagnarla in ospedale per l'aborto. In un'intercettazione, lo stesso Sebastiano paventa il sospetto che il padre del bambino fosse Sterpin. Quindi già 30 anni fa era a conoscenza della relazione tra lui e Liliana. Allora perché oggi nega tutto? Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.